Salve gente, sono Jack di Cadena Pisa, siamo su Gamedev Tycoon Nell'ultima puntata abbiamo fatto assolutamente schifo, abbiamo solo perso soldi Però non la dignità, la dignità ancora ce l'abbiamo Abbiamo sbagliato di nuovo il titolo per fare l'obiettivo che penso sia Wind Commander Tra l'altro non ho controllato in internet Quindi, vede, questo è l'ultimo tentativo che faccio Nel frattempo qua vedo un cerchietto nella freccetta Chissà che cavolo sta facendo il mio computer e si mette a caricare cose Questo Windows 10 di merda Allora, allora Facciamo alieni Alieni avventura, alienazione Oppure a grande combo, attenzione Ok, andiamo così Giovani, lo pubblichiamo sul Gamelink, i giovani non ho forte Avanti, dai Con motore di gioco 2, che tristezza Che tristezza, motore di gioco 2 In 3D, oh mio Dio Ah no, queste 2D v3 Vabbè, 2D v3, usiamo questa, sì sì Wind Commander, spero sia giusto questa volta Allora Wind Commander avrà Tutto, tutto, tutto Tutiamo tutto e via Dore di gioco Storia e missioni, niente Gameplay Ma guarda come si genera l'hype Eh, allora Aiutiamolo quest'hype a crescere, no? Però ho paura Ho paura, vabbè, andiamo dai Poi, intanto Sono sicuro che con Superballo Bros 2 faremo il colpaccio Inteligenza artificiale, penso sia importante, no? No, 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 sì Ok, andiamo Altro marketing Andiamo, altro marketing Tatatatà Ed ecco la Playstation Avvenne L'alluncio della Playstation Prima console con un lettore CD-ROM E processore da 32-bit La rivoluzione stava per iniziare Sonoro Da non importante A due, penso Non lo so Desente nel mondo di gioco Lasciamolo così Così Grafica Solo la grafica è rimasta praticamente Forse questo Che è un po' meno Ok Mondo aperto e ciclo giorno-notte Dai, dai, dai Voglio il giocone Voglio il giocone Voglio il big money Ok, dai Dai, Wing Commander Ho costruito tre giochi Tutti uguali Praticamente a te Un titolo simile Finalmente l'originale è uscito Dai, ti prego Ti prego Sì, sì, sì 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 9 9 i soldi Finalmente i soldi arrivano No Ma come 7 Ma come 7 Ma che cazzo Ma perché mi perculano? Ma perché mi prendono per il culo? Sono un soggetto da prendere per il culo? Facciamo i rapporti sul gioco Questi pezzi di merda Non capiscono niente di videogiochi La play è arrivata Allora Altri rapporti? Sì Spera la sorta è giusto Bene Ok Abbiamo guardato la nostra analisi dei dati Vediamo un po' Dialoghi per nulla è importante Allora Vediamo se ci sono Accordi Governativo Qualsiasi genere Militare Allora Superballobros Non può Attendere oltre Superballobros Vuole uscire adesso Cazzo è sta cosa? Ah, dovevo scegliere il seguito Dove cavolo è il Superballobros Scoletta con ritmo Superballobros Ballo Casual Non posso modificarlo, no Sì, posso se voglio Per cosa lo facciamo uscire? Per il Supertest Che non ha un grosso pubblico però No, io voglio il Big Money Non mi interessa niente Gioco medio Manteniamoci sulle nostre Gioco piccolo Però con un nuovo motor di gioco Ok Per Ballobros 2 Più professional Professional Con grafica 3D Sul game league La grafica 3D Sul game boy di merda Allora Storia e missioni Niente Gameplay E motore di gioco Forse magari Dobbiamo abbassare Io ho paura di Di fare cazzate Va bene Ok Design al massimo Diligenza artificiale Niente E anche dialoghi Molto passi Superballobros 2 Dovete salvarci voi Sono l'importante Grafica Beh sì Importante La rivoluzione Sta arrivando Lo sento No Ho dimmi di fare Le campagne di marketing Fanculo Niente Win Commander Neanche questo era giusto Attenzione Lo stand No cazzo 1.5 milione Siamo pazzi Però ci vediamo Con quello medio Peccato che L'hype Ah Alcuni dei nostri clienti Stanno avendo dei problemi Chiedono di lasciare Una patch Bene Ok Possiamo creare La patch Cioè La patch Per un gioco Che era Perché merda era Per il gameboy Come faccio a creare La patch Prendono per il culo Come si crea La patch Crea un motore Sviluppa seguito Forse da me Sviluppa patch Fangulo 100.000 per una patch Di merda Dai ti prego Attenzione 10 Tutti lo adorano Superballo Brothers 2 10 Il migliore Del suo genere Attenzione No Non mi perculare Non mi perculare Sì Sì We are the champions Yeah Ragazzi Il primo 10 completo È un'emozione fantastica Sì E non ho fatto neanche marketing Sono un coglione Sono un coglione Che cazzo è successo Si è bloccato tutto Il driver video È smesso di rispondere Oh mio dio Ragazzi Non so neanche Se mi state vedendo Lo spero Lo spero Mi è impazzito Il pc Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Non so se sta registrando Oh mio Ho paura pure A salvare la partita Corromperemo il file Oh mio dio È spaventoso Forse è meglio Non salvare Non lo so ragazzi Se siete qua Vi saluto direttamente E controllo un pochettino Che cavolo è successo Mi sa che il mio urlo Ha fatto impazzire tutto Saluti dai Catania Pisa Ciao Alla prossima